Bella a tutti ragazzi, io sono XRMV e oggi siamo in questo nuovissimo video Allora, oggi siamo su questa applicazione, allora, che si chiama Pack Opener Allora, in che consiste? Adesso vediamo subito Come vedete, io ho aperto un pacchetto e ho trovato Giulio Cesar Questa applicazione ti permette di spacchettare E cercare di trovare qualche giocatore forte, o almeno per avere una gioia Tipo adesso abbiamo trovato Roberto Fermino E questo è adattato per l'Xbox Voi direte tutti, scusate ma tu hai iOS e stai giocando ad un'applicazione di Android Perché questa applicazione l'hanno fatta solo per Android Come vedete, questi sono tutti i giocatori che ho trovato fino adesso Ho scaricato un best pack, sarebbe con questo qui, ovvero il mio primo pack Allora, come vedete, qui possiamo trovare moltissime persone E questo gioco l'ho scoperto tramite i miei amici Che hanno trovato varie leggende, hero e tutto il resto Allora, qui si può andare alla ricerca scalmanata E comunque... Oh, quadrato Abbiamo trovato quadrato E comunque qui possiamo Tra l'altro c'è un giocatore che io tengo veramente Questo è Bojkovic E tra l'altro E tra l'altro questa applicazione Tu ci puoi giocare Cioè puoi anche sfidarti Con gli amici per i vostri punti Allora, adesso abbiamo trovato Rui Patricio E tipo... La soddisfazione è trovare qualche if che nella realtà... Oh, palacio Qualche if che nella realtà non troveresti mai Tipo Ronaldo E allora qui noi siamo alla ricerca spensierata Per cercare un giocatore forte Veramente lo odio Esce a random È buonissimo comunque Lo consiglio Cioè mi trovo bene Oh, if in a pack Abbiamo già il primo if E comunque il nostro obiettivo Ora è trovare James Rodriguez Piano piano Dai ragazzi James Rodriguez è buono e buono e buono E comunque il nostro obiettivo Almeno possiamo trovare una leggenda Che è questo essential Quindi vanno Insomma mi potete usci if Allora Stiamo trovando sempre i portieri Questa è la seconda volta Cesar Rondonpato Oh, if, if, if Come, paietto Ottimo if Buona così E comunque vi consiglio Vi consiglio questa applicazione Perché Ci puoi Ti ci puoi divertire molto bene Allora Turalan Di nuovo Mi stanno prendendo le scatole Turalan Un altro Turalan Andiamo a vedere Nono è un portiere Olandese Vormito Osvaldo Daniel Osvaldo Incredibile Ottimo Compagnia buona raga E cibi Cibi No E' a tansk Dobbiamo riuscire a trovare un giocatore almeno 80 Abbiamo Burki No Quasi Benaglio Burki Ma vai Burki 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 Oh Quagliarella Buonissimo giocatore Faccele il caso Por favor Allora Allora Vediamo di Florenzi Darmian Ottimo 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 Darmian è buono raga Oh If If Martial Ottimo Così Martial Juan Fran Bello Martial Messer Rodriguez Apriamo una Oh If If Eh vabbè Al Sharin Al Shalawi Non il Shalawi Al Shalawi Iborra No Garzia Oh Stiamo trovando sempre Ma la finiamo Call 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 Quanti Quanti persone di voi Su mobile Ti sono fatti prendere soldi Per colpa di Call Ora Ora costa 2000 crediti Eh non sta nemmeno Ah si sta Oh Oh LM Maddo Mi so caduto Sotto in zappo Che era Ronaldo Oh 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 Ronaldo Oh 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 Legend of the Park Oh 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 Oddio Sono contento così Daga Ronaldo in a park Stanotte Draxer Mert Allora stanotte Sognavo che Aguero Aguero Sognavo che Avremo un pochetto Insieme a voi L'ultimi Settimile Cinque Uiff L'ultimi Settimile Oh 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 Guarin Freddy Gli ultimi Settimile Cinquecento Andavo con voi Trovavo Ronaldo E così Fai mi sveglia Mia madre Certo Mamma mia Raga Mi è venuto Un colpo Zola Zola Legend Zola In a park E in più Ronaldo Dai Cascosta Ottimo Giocatore Iff 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 Eh Gull No Nemmeno C'è giù Mamma mia Raga Appena ho visto Ronaldo Ronaldo Te l'avevo trovato Ronaldo Oddio Ma chi cazzo Deve Marlos Marlos Bacca Guarda Guarda Queste battite Legend 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 Legge 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 Zanetti Abbiamo trovato Una leggenda Zanetti Ho urlato Già prima Mi sta bene Così William Il fratello Il fratello Di quadrato Quante volte L'ho detto Su questo canale Mamma mia Raga Oh Eh vabbè Ci beite Cosilva No Ebbene ragazzi Questo video Finisce qui Questo video Finisce qui Matti Zindi Tra l'altro Noi ci vediamo Ad un prossimo video Lasciate un like Un commento Una condivisione E Ciao ciao A tutti Bye Bye